Hazel Tutto odorava di veleno. Due giorni dopo aver lasciato Venezia, Hazel non riusciva ancora a liberarsi il naso dal tanfo pestilenziale di Ode Mostromucca. Certo, il mal di mare non aiutava. Largodù e Solcaval Adriatico, una splendida distesa di azzurro. Ma Hazel non riusciva ad apprezzarlo, per colpa del costante rollio della nave. Sul ponte cercava di tenere lo sguardo fisso all'orizzonte, sulle bianche scogliere, che sembravano sempre trovarsi a pochi chilometri di distanza verso est. Cos'era quella, la Croazia? Hazel non ne era certa, ma non vedeva l'ora di tornare sulla terraferma. La cosa che la nauseava di più, però, era la donnola. Durante la notte, Gail, la donnola di Ecate, era comparsa nella sua cabina. Hazel si era svegliata da un incubo pensando «Cos'è questa puzza?» e aveva trovato quella bestiaccia pelusa ritta sul suo petto, che la fissava con gli occhietti neri e luccicanti. Non c'è niente di meglio che svegliarsi urlando, balzare giù dal letto e mettersi a saltellare in cabina con una donnola che ti zampetta fra i piedi, squittendo e scoreggiando. Gli altri erano corsi a vedere se stesse bene. Era stato difficile spiegare la presenza dell'animale. Leo si era sforzato molto per non uscirsene con una delle sue battute. Hazel se n'era accorta. Quella mattina, dopo che la confusione era cessata, la figlia di Plutone aveva deciso di rivolgersi a Hedge, visto che lui sapeva parlare agli animali. Trovò la porta della sua cabina accostata e udì il satiro che parlava come se fosse al telefono con qualcuno. Solo che non c'erano telefoni a bordo. Forse stava inviando un messaggio iride. Hazel aveva sentito dire che i greci li usavano molto. Ma certo, tesoro, stava dicendo Hedge. Sì, lo so, piccola. No, è una notizia fantastica, ma... La sua voce si interruppe per l'emozione e a un tratto Hazel si sentì una persona orribile a starsene lì a origliare. Se ne sarebbe andata, ma Gale squittì, costringendola a bussare. Hedge fece capolino sulla porta, ciliato come al solito, ma con gli occhi rossi. Che c'è? Brontolò. Mi scusi, disse Hazel. Sta bene? Il satiro sbuffò, spalancando la porta. Che razza di domanda è? Non c'era nessun altro nella stanza. Io... Hazel cercò di ricordarsi perché si trovava lì. Mi chiedevo... Non è che potrebbe parlare con la mia donna, là? Hedge ha so' chiuso gli occhi. Abbassò la voce. Stiamo parlando in codice? C'è un intruso a bordo? Beh, in un certo senso. Gale fece capolino fra i piedi di Hazel e cominciò a squittire Garrula. Il satiro sembra offeso. Squittì qualcosa di rimando. Sembrava un battivecco in piena regola. Che ha detto? Domandò Hazel. Un sacco di parolacce. Ma il succo è questo. È qui, per vedere come va. Come va cosa? Hedge batte uno zoccolo a terra. E io come faccio a saperlo? È una donnola! Quelle come lei non danno mai una risposta chiara. Ora, se vuoi scusarmi, ho... Da fare! E le chiuse la porta in faccia. Dopo colazione, Hazel si affacciò al parapetto di Babordo, cercando di placare lo stomaco. Accanto a lei, Gale correva su e giù lungo il parapetto, scorreggiando. Ma il vento forte dell'Adriatico spazzava via l'odore. Hazel si chiese che cosa avesse Hedge. Stava sicuramente parlando con qualcuno attraverso un messaggio iride. Ma se aveva ricevuto una buona notizia, perché aveva quell'aria battuta? Non lo aveva mai visto così scosso. Purtroppo, dubitava che il satiro chiedesse aiuto in caso di bisogno. Non era il tipo. Scruttò le bianche scogliere in lontananza e si domandò perché Hedge le avesse mandato Gale. È qui per vedere come va, si disse. Stava per succedere qualcosa e lei sarebbe stata messa alla prova. La dea sembrava crederla capace di imparare la magia senza nessun addestramento. Si aspettava addirittura che sconfiggesse una potentissima maga, la donna dalla veste dorata, che Leo aveva visto in sogno. Ma come? Hazel aveva passato tutto il tempo libero a tentare di capirlo. Aveva provato a fissare la spada, sforzandosi di fare in modo che sembrasse un bastone da passeggio. Aveva cercato di evocare una nuvola affinché coprisse la luna piena. Si era concentrata fino a diventare strabica e a sentirsi esplodere le orecchie, ma non era successo nulla. Non era capace di manipolare la foschia. Nelle ultime notti i suoi sogni erano peggiorati. Si trovava di nuovo nella prateria degli Asfodeli a fluttuare senza meta in mezzo alle anime. Poi era nella grotta di Gea, in Alaska, nel cui crollo era morta insieme a sua madre, con in sottofondo l'urlo infuriato della dea. Quindi era New Orleans, sulle scale del loro vecchio appartamento, faccia a faccia con suo padre, Plutone. Le dita gelide del dio le serravano il braccio. Il tessuto del suo completo di lana nero vibrava di anime imprigionate. Plutone la fissava con i suoi occhi scuri e rabbiosi e le diceva «I morti vedono quello che credono di vedere, e così fanno i vivi. Ma è questo il segreto!» Nella vita vera, lui non le aveva mai detto una cosa del genere. Hazel non aveva idea di cosa significasse. Gli incubi peggiori, però, sembravano rapidi scurci del futuro. Hazel barcollava in una galleria buia, mentre una risata femminile le riecheggiava intorno. «Controlla questo, se puoi, figlia di Plutone!» le diceva la sconosciuta. Immancabilmente, Hazel sognava le scene che aveva visto all'incrocio di Ecate. Leo che cadeva dal cielo. Percy e Annabeth che giacevano svenuti, forse morti, di fronte a porte di metallo nero e argento. Una figura velata che li sovrastava minacciosa. Il gigante eclizio avvolto nelle tenebre. Accanto a lei, sul parapetto, Gale squittiva con impazienza. Hazel fu tentata di gettare quella stupida bestiaccia in mare. «Non sono nemmeno in grado di controllare i miei sogni!» avrebbe voluto gridare. «Come potrei mai controllare la foschia!» Era così depressa che si accorse di Frank solo quando se lo vide accanto. «Va un po' meglio!» le chiese lui. Quando le prese la mano, le sue dita coprirono totalmente quelle della ragazza. Hazel non riusciva a credere a quanto fosse diventato alto. Lo aveva visto trasformarsi in così tanti animali che non capiva perché un'altra trasformazione dovesse stupirla fino a quel punto. Ma all'improvviso era cresciuto in proporzione al suo peso. Nessuno poteva più dargli del ciccione. Sembrava un giocatore di rugby, forte e robusto, con un nuovo centro di gravità. Le spalle erano più larghe. Camminava con maggior sicurezza. Quello che aveva fatto sul ponte di Venezia. Hazel era ancora sbigottita. Nessuno di loro aveva assistito alla battaglia, ma nessuno ne dubitava. L'intero portamento di Frank era cambiato. Perfino Leo aveva smesso di prenderlo in giro. «Io... sto bene», palbettò. «E tu?» Frank sorrise, corrugando gli angoli degli occhi. «Io... mi sento alto. Per il resto, sì, sto bene. Dentro non... Beh, dentro non sono cambiato. La sua voce conservava un poco del dubbio e della goffaggine di prima. La voce del vecchio Frank, che aveva sempre paura di fare l'imbranato e di incasinare le cose. Hazel si sentì sollevata. Le piaceva quella parte di lui. All'inizio il suo nuovo aspetto l'aveva scioccata. Aveva avuto paura che pure la sua personalità fosse cambiata. Ma ora stava cominciando a rilassarsi. Nonostante la nuova forza che aveva, Frank era lo stesso ragazzo dolce di prima. Era ancora vulnerabile. E continuava ad affidare a lei la sua debolezza più grande. Il pezzo di legno magico che Hazel teneva nella tasca della giacca, accanto al cuore. «Lo so. E sono contenta». Gli strinse forte la mano. «Non è per te che mi preoccupo». Frank sbuffò. «Nico come sta?» Stava pensando a se stessa a dire il vero e non a Nico, ma seguì la direzione dello sguardo di Frank fino all'albero di Trinchetto, dove suo fratello se ne stava appollaiato sull'estremità del pennone. Nico dichiarava che gli piaceva stare di vedetta perché aveva la vista buona, ma lei sapeva che non era per questo. Il pennone di Trinchetto era uno dei pochi posti in cui poteva stare da solo, lì a bordo. Gli altri gli avevano offerto di alloggiare nella cabina di Percy, visto che lui era… beh, visto che lui non c'era. Ma Nico non aveva voluto saperne. Trascorreva la maggior parte del tempo in mezzo al sartiame, dove non era obbligato a parlare con il resto dell'equipaggio. «Non lo so», ammise Hazel. «Ne ha passate tante. L'hanno catturato nel tartaro e imprigionato in quella giara di bronzo. Poi ha visto cadere Percy e Annabeth e ha promesso di guidarci nell'epiro. Frank Annui. Ho la sensazione che Nico non ami i giochi di squadra. Drizzò la schiena. Indossava una maglietta con l'immagine di un cavallo e la scritta «Palio di Siena». L'aveva comprata solo pochi giorni prima, ma ormai gli stava piccola. Quando si stirava, gli si scopriva la vita. Hazel si accorse di stare fissando il suo torace muscoloso. Si affrettò a distogliere lo sguardo, rossa in viso. «Nico è l'unica famiglia che ho», disse. «So che non è molto... amabile, ma tu sei sempre gentile con lui. Grazie». Frank sorrise. «Tu hai sopportato mia nonna a Vancouver. A proposito di persone non molto amabili. Mi piaceva molto tua nonna». Gay, la donna, la zampettò in mezzo a loro, fece una puzzetta e corse via. «Bah!» Frank cercò di allontanare il tamfo sventolando la mano. «Cosa ci fa qui quella bestia puzzolente?» Hazel fu quasi contenta di non trovarsi sulla terraferma. Agitata com'era, il terreno ai suoi piedi si sarebbe riempito d'oro e pietre preziose. «Hekatel l'ha mandata a osservare», rispose. «A osservare cosa?» Hazel cercò di trarre conforto dalla presenza di Frank, con la sua nuova aura di solidità e forza. «Non lo so», disse infine. «Una prova, credo». All'improvviso, la nave beccheggiò in avanti.